Fiocco rosa in casa di Tania Cagnotto. La più grande campionessa di tuffi nella storia dello sport italiano è diventata mamma. Come annuncia su Instagram, è nata la sua prima bambina. Ce l'abbiamo fatta oggi, è nata la nostra piccola Maia stiamo tutti bene. Grazie per essermi stati vicini anche in questo momento magico. Buonanotte a tutti. Una gioia grandissima per l'atleta e suo marito Stefano Parolin. Prima ancora del post di Tania, è stato un comunicato di fede e nuoto a dare il lieto annuncio. Con una settimana d'anticipo è nata Maia, figlia della campionessa Tania Cagnotto e del marito Stefano Parolin. La piccola pesa 3,40 kg. Un tuffo di felicità che la fede e nuoto condivide con emozione. Alle Olimpiadi di Rio 2016, Tania diceva addio al trampolino, per dedicarsi completamente alla vita privata. Poco dopo, è così arrivato il matrimonio con Stefano Parolin, commercialista e skipper. Nozze che si sono celebrate sull'isola d'Elba, dove i due si erano incontrati per la prima volta. Poi, ad agosto 2017, l'annuncio della gravidanza. 33 anni il prossimo 15 maggio, qualche mese fa la Cagnotto raccontava l'ansia pre-parto. Vedo il parto come un salto nel vuoto, ma non come quelli che faccio in piscina, perché li sono abituata e preparata, qui ho la sensazione che ti puoi preparare finché vuoi, ma non sarà mai come te lo immagini. Eppure, quello che ha appena fatto Tania è probabilmente il tuffo più bello della sua vita. Chi se ne frega.